Ciao a tutti, sono Giuseppe Adamo, rappresentante della Blue Springs. Faccio parte di un'azienda che importa più di 25 marchi, leader nel mondo della pesca, come Yamashita, Maria, Palms, Decoi, Sunline. Abbiamo oltre 15.000 articoli e proprio per questo abbiamo deciso di creare questo format per fare luce su alcune di esse. Io, insieme ad alcuni miei colleghi, di volta in volta andremo a spiegarvi un singolo articolo scoprendo le varie caratteristiche e dandovi qualche consiglio su come utilizzarlo. Spero che questa rubrica vi piaccia e vi auguro una buona visione. In questa prima puntata ho deciso di parlarvi di un nuovo artificiale, il Tizzi Minnog 90HS dell'aggressivo. Ecco. Questo artificiale misura 9 cm x 28 g di peso ed è formato da un corpo compatto, un po' più sottile in coda, due ancorette di dimensioni generose e una paletta molto robusta. Nel dettaglio internamente, ve lo faccio vedere, troviamo la presenza di una zavorra che dà il peso stesso dell'artificiale e regola il suo assetto soprattutto in fase di discesa. L'armatura è passante. Questo, insieme alle due ancorette molto robuste, fa sì che questo artificiale sia perfetto anche per i predatori più potenti. Viene commercializzato in sei colori diversi. Quattro sono quelli che trovate qui, sul banco. Uno è quello che vi ho fatto vedere poc'anzi, il classico valore blu-pink e l'altro è il mio preferito, il colore cefaletto. Quello che sorprende di più di questo artificiale è la sua grande versatilità. Infatti, grazie alle sue caratteristiche, può essere utilizzato sia dalla barca che da terra. Il corpo piccolo e il peso relativamente importante, ricordo 28 grammi, fa sì che si possano raggiungere distanze di lancio notevoli. In acqua, il suo assetto in discesa sarà quasi orizzontale e consiglio cercate veloci. Sarà esattamente in quei cambi di velocità che avverrà l'attacco. Questo artificiale simula perfettamente un pesce foraggio. Da barca è ideale per lo spinning sulle mangianze, in qualunque tipo di mangianza, ma anche a traina. Da terra darà il massimo nello spinning in acque abbastanza profonde con una leggera coprente. È perfetto per le spigole, i barracuda, i serra, le palamide, ma in generale per qualunque tipo di predatore. Trovate questa artificiale già in tutti i rivenditori Bluesprings con una qualità prezzo eccezionale. Per qualunque altra informazione o per sapere qual è il punto Bluesprings più vicino, contattateci in tutti i nostri canali social. Grazie.